Musica Ben ritrovati da Alessio Grosso dunque all'improvviso l'estate l'estate per tutta la penisola non soltanto per il sud o il centro ma questa volta l'anticiclone ha deciso di estendere la sua influenza anche al nord inizialmente sarà l'anticiclone delle Azzorre quindi con un caldo moderato ma attenzione passaggio di consegne molto rapido durante il weekend con l'anticiclone africano e quindi sì la calura sarà davvero intensa soprattutto all'inizio della prossima settimana. Parliamo di tutto in questa nuova puntata di Meteorite Weekend Ebbene apriamo proprio con la notizia dell'arrivo del caldo africano del resto covava già da tempo sul nord Africa l'anticiclone africano portando valori quasi da record sull'Egitto ebbene questa calura avvolgerà l'Italia soprattutto tra sabato 15 e mercoledì 19 raggiungendo le punte massime al centro sud ma anche sull'Emilia farà caldo naturalmente anche in Lombardia probabilmente non eccezionale comunque in ogni caso questa calura poi potrebbe essere spazzata via dai temporali in arrivo naturalmente con l'aria fresca atlantica ma cominciamo a vedere un piccolo strappo questa è l'immagine satellitare di quest'oggi in realtà è della mattinata ma comunque sì a questa perturbazione questo fronte freddo è l'ultimo ostacolo contro l'alta pressione si sta muovendo verso le Alpi attraverserà l'Europa centrale per la verità ma la sua coda venenosa toccherà le Alpi nella giornata di venerdì producendo dei temporali temporali che potrebbero essere di forte intensità soprattutto sulla Valtellina sul Comasco sul Varesotto e poi in spostamento verso il Trentino Alto Adige il Bellunese e l'Alto Friuli questa situazione temporalesca però si concluderà perché già nella giornata di sabato non ne ritroveremo più traccia infatti andiamo a vedere che cosa accadrà dicevo di questo passaggio di consegni ebbene all'inizio della prossima settimana intanto ci sarà già l'anticiclone per il weekend ma guardate cosa accade all'inizio della prossima settimana l'aria fresca scende sull'ovest del continente e come nei vasi comunicanti c'è proprio un richiamo di sponda di aria molto calda per il Mediterraneo centrale per l'Italia quel puntino che vi ho messo bianco simboleggia Roma naturalmente e quindi gran caldo andiamo a vedere anche a livello nazionale proprio che risposta si avrà sul territorio ebbene le zone più calde sono quelle interne lontane dal mare tra le regioni più calde la Puglia ma anche la Toscana il Lazio le zone interne della Sardegna e della Sicilia gran parte della Valpadana in particolare l'Emilia soggetta anche a una sorta di ricaduta favonica quindi lì potrebbero anche arrivare a 34-35 gradi e forse picchi di 36 sono previsti addirittura sulla Puglia questa situazione però poi tenderà pian piano a rientrare questa sorta di emergenza caldo comunque sia è proprio la nostra tipica estate ormai negli ultimi anni l'anticiclone africano ha sostituito quello delle azore rendendo le nostre estati piuttosto fastidiose soprattutto per chi rimane in città poi tra mercoledì e giovedì dicevo la novità l'aria fresca di origine atlantica andrà a contrastare con quella calda presente sul nostro paese entra anche una goccia fredda fresca potremmo dire il caldo arretra verso il centro-sud in particolare verso l'estremo sud e entrano invece al nord e su parte del centro rovesci e temporali che spazzeranno via questa calura in particolare andiamo a vederli eccoli qui in blu i temporali previsti tra mercoledì nella notte soprattutto tra mercoledì e giovedì cioè questa è proprio la traccia del fronte freddo la vedete la linea di contrasto tra le correnti calde e quelle più fredde temporali anche forti tra Piemonte e Lombardia e perché quando fa poi tanto caldo arrivano anche poi di conseguenza anche forti temporali tutto questo però tra una settimana intanto abbiamo tutto il tempo di goderci il caldo e l'estate soprattutto se si ha la fortuna se si avrà la fortuna di andare al mare per questo fine settimana ebbene proprio di mare vogliamo parlare di temperature del mare di temperature del bagnasciuga soprattutto perché chi andrà al mare nel weekend dice ma potrò fare il bagno ebbene la risposta non è così facile perché sicuramente tedeschi scandinavi inglesi i turisti che giungono in Italia non avranno alcuna difficoltà a raggiungere a tuffarsi nel nostro mare ma per gli italiani voi sapete noi siamo un po' più difficilini con le temperature ebbene come vi ho detto le temperature sono ancora fresche perché sono ancora fresche perché la primavera come sapete è trascorsa con temperature spesso sotto la norma in particolare al nord e in particolare con precipitazioni abbondanti la neve si è sciolta è affluita al mare insomma fa freschino ancora al mare temperature che soltanto sull'alto adriatico hanno raggiunto i 23 gradi queste sono quelle previste per domenica 16 mentre altrove 21 22 con fatica addirittura 19 qui vicino alla Corsica questo significa che insomma ci vorrà coraggio per tuffarsi il mare ma comunque in spiaggia ci si potrà andare davvero con piacere perché ci saranno le brezze a rinfrescare l'ambiente e si starà benissimo dalla Liguria sino alla Sicilia ebbene buon mare e buon weekend vediamo che cosa ci aspetta allora facciamo un bel riassunto della situazione il venerdì vi ho già detto passa quella perturbazione quella coda velenosa del fronte freddo sull'arco alpino temporali che potrebbero occasionalmente sfondare cioè qua e là quindi non sono da escludere temporali anche in Val Padara nel tardo pomeriggio ma si tratterà proprio di un mordi e fuggi e poi tornerà il sereno bel tempo al centro sud temperature in leggera e temporanea flessione al nord in particolare sotto i temporali per la giornata di sabato invece tutto via torna il sole ad imporsi su gran parte del paese naturalmente nel pomeriggio si formeranno nubi cumuliformi lungo le Alpi ma il rischio di rovesce temporali sarà decisamente scarso direi totalmente assente al centro sud dove il cielo si presenterà addirittura completamente sereno temperature che saliranno anche per la Lombardia stesso discorso mattinata di sole ovunque consueta formazione di nubi cumuliformi in montagna dove il sereno è davvero molto difficile da avere ci vuole proprio un'alta pressione di quelle toste comunque sia una bella giornata sulla regione non sono da escludere brevi ed isolati acquazzoni pomeridiani in montagna ma ci sta temperature in rialzo anche sulla nostra regione Milano potrebbe raggiungere i 31 gradi andiamo a vedere ora la domenica a livello nazionale non cambia assolutamente nulla ancora molto sole come potete vedere al nord nel pomeriggio un po' di nubi cumuliformi niente di più molto più sole al centro sud con temperature in ulteriore rialzo qui cominceranno a vedersi i 33-34 gradi nelle zone interne non raggiunte dalla brezza marina vediamo anche sulla nostra regione mattinata di sole cambia ben poco nel pomeriggio un po' di nubi cumuliformi che comunque sia spezzeranno la calura in montagna anche nei fondovalli alpini farà un po' caldo Milano potrebbe raggiungere i 32 gradi 31-32 dipende naturalmente dalle zone si sa che in zona centro fa più caldo rispetto che all'inate e soprattutto alla malpensa andiamo a capire ancora cosa potrebbe riservarci la metà della prossima settimana vi dicevo di quei temporaloni che arrivano a spezzare la sedia del caldo ebbene eccoli lì molto intensi ancora da confermare peraltro quindi aggiornatevi sempre su www.meteolive.it ma temporali di forte intensità potrebbero svilupparsi da ovest verso est al nord portando anche un calo di 10 gradi delle temperature temporali che poi potrebbero raggiungere anche le regioni centrali ma per tutto questo bisogna consultare la sfera di cristallo Si parte con il sole pieno su tutta la penisola lunedì e martedì le giornate sicuramente migliori della settimana oddio al sud sarà tutta la settimana così eh però al nord del centro no guardate un po' cosa succede piano piano comincia a manifestarsi il segnale di un cambiamento di un cambiamento che poi prenderà corpo maggiormente nella notte tra mercoledì e giovedì vi ho già parlato dei temporali forti che raggiungono poi anche le regioni centrali cosa raggiunge il sud e fa calare un po' le temperature anche lì un po' di maestrale maestrale che si farà vivo insieme a qualche nuvola e facendo calare le temperature di alcuni gradi infatti se andiamo a vedere l'andamento termico della settimana noteremo proprio che nella seconda parte ci sarà un calo che raggiungerà leggermente anche le regioni meridionali si parte con un gran caldo caldo come vi ho già detto delle punte di 35-36 gradi soprattutto sulla Puglia poi mercoledì il caldo al nord si arresta seguitano a salire ancora un po' le temperature al centro-sud ma da giovedì pum ecco l'aria fresca soprattutto al nord e al centro si tornerà a valori pressoché normali in linea con le medie del periodo per finire poi con valori che resteranno comunque estivi ma gradevoli non più con punte di caldo fastidiose in ogni caso ripetiamo sarà un bel weekend per tutti godetevelo se avete la possibilità di andare al mare o anche ai monti dove il tempo sarà comunque clemente oppure al lago insomma il classico weekend estivo che davvero si può trascorrere in spiaggia con piacere grazie di averci seguito a presto d'alessio grosso